Le prestazioni non esaltanti di Pozzere e Menegatti nella prima parte di stagione potrebbero indurre il Monopoli a cercare sul mercato un portiere almeno classe 1999 per rinforzare l'organico. L'estremo difensore dovrebbe essere uno dei cinque tasselli che la società metterà a disposizione di scienza nel mercato di gennaio che prenderà il via lunedì prossimo. Uno dei nomi sul taccuino è quello di Davide Marfella, classe 99, che si sposterebbe solo di qualche chilometro. Il Bari ha dichiarato di avere intenzione di investire su di lui e il fatto di mandarlo a giocare con continuità potrebbe rappresentare l'inizio di questa valorizzazione. Dal canto suo invece il Monopoli potrebbe addirittura cercare un trasferimento a titolo definitivo per puntarci su a lungo termine. Un primo contatto c'è già stato, al ritorno in Puglia del DS Romairone la trattativa potrebbe finalmente decollare. Difficile invece arrivare all'attaccante del Catanzaro Devis Curiale, la punta ex Catania e Trapani vorrebbe continuare a giocarsi le sue chance con la squadra di Calabro, inducendo i biancoverdi a guardare altrove. In uscita richieste di Casarano e Casertana per Santoro, prima di dare l'ok però servirebbe assicurarsi almeno un sostituto.